La cancellazione di 23 treni in uno dei giorni più turistici dell'anno, il 16 agosto scorso, per Trenitalia è dovuta alla momentanea e non prevedibile indisponibilità di risorse tra il personale di bordo. Per i sindacati la verità è un'altra. L'azienda avrebbe spostato il personale dalle linee della Liguria a quelle del Piemonte. Lo scrivono nella lettera inviata ai vertici aziendali, accusati di non aver pensato per tempo ad una corretta programmazione che tenesse conto delle ferie estive dei lavoratori. Il brutto della questione è che Trenitalia ha scaricato la responsabilità sull'utilizzo delle leggi sociali da parte del personale, mentre invece non è assolutamente vero, ma è stata una mancata programmazione già denunciata da tempo da tutte le organizzazioni sindacali. C'è poi la questione dei convogli e dei materiali, spesso troppo vecchi. Si parla anche di vagoni di 30 anni riadattati, ma che continuano a dare problemi. Il rincaro dei biglietti dunque non va di pari passo con la manutenzione dei treni. Il problema è legato soprattutto alla vettustà dei materiali che vengono utilizzati e che naturalmente, essendo vecchi, sono più soggetti a guatti e quindi a creare dei disservizi. Ieri sull'Intercity Livorno-Milano-Centrale, giunto con quattro ore di ritardo per aver rotto due volte il locomotore, c'era un abitué del Tiguglio, Agostino Fornaroli, che punta il dito sull'inaffidabilità dei treni e non solo. L'Intercity di ieri era un vecchio Intercity riverniciato, con due locomotori, uno in testa e uno in coda, carenati, tra virgolette, finti, che diventeranno frecce bianche, probabilmente aumenteranno il prezzo del biglietto. Ciò indispettisce chi lascia ferma l'auto per usare il treno. Il viaggio di ieri è stata una vera odissea, conferma Fornaroli, con tanti problemi per i viaggiatori, molti dei quali turisti. Essendo salito a chiave alle 8.24, c'erano molti turisti, anzi la maggior parte, gente che aveva l'aereo, per il low cost, che quindi non potevano cambiare biglietti.